Massafra, giovedì 17 marzo 2016, Vivi Massafra e Teresud sono alla conferenza stampa della coalizione della maggioranza. Il sindaco uscente, il dottor Martino Tamburrano, discute circa gli obiettivi programmatici della coalizione, che si riassumono essenzialmente in tre punti, allargamento della stessa, compattezza e coinvolgimento delle forze giovanili. Nella stessa conferenza il sindaco annuncia le liste della coalizione del centrodestra, ma non rivela ancora il nome del candidato, che probabilmente dalle sue parole verrà fuori dopo il tavolo previsto per sabato 19 marzo. In questa lista sono presenti Forza Italia, Io Sud, Fratelli d'Italia, Rivoluzione Cristiana, la lista Schittulli, Italia Unica, Noi con Salvini, Area Popolare e Amiamo il Sud. Con loro, afferma il sindaco, sarà scelto il nome del candidato, solo e con tutti loro. Si parla di un centrodestra compatto e al tavolo sono presenti tutti gli assessori dell'attuale giunta comunale. A fine conferenza abbiamo rivolto al nostro sindaco alcune domande, tra le quali anche ciò che ci aspetta nel dopo Tamburano, ossia quale sarà la nuova impostazione che verrà data alla nostra amministrazione. Sindaco, la coalizione del centrodestra è al lavoro per la ricerca del candidato sindaco e non solo? Non solo per il candidato, sarebbe molto riduttivo. Innanzitutto per ripristinare un metodo che ci ha visto i vincendi è che a quella coalizione del 2011, l'ultima, diciamo, che è il messo elettorale che mi ha visto candidato sindaco, si aggiungono tante altre liste intorno al tavolo. Sono molto più sicuramente contento del passato perché ho visto una crescita culturale e politica di tutti i soggetti in campo, non solo della politica ma soprattutto degli attori, mi riferisco a consiglieri comunali e assessori che hanno partecipato da dieci anni a questa coalizione che mi ha visto sindaco di questa città. Ma noi stiamo cercando di dare dei criteri, di fare un programma, di confrontarci in itinere con la gente, con le associazioni, con le forze sociali, con le forze imprenditoriali, con le piccole e medie imprese, con tutti quelli che devono votare e votarci di nuovo per dire che lo stesso impegno lo manterremo, per dire che tante altre persone si sono aggregate a noi, che le liste non hanno riempitivi ma soggetti impegnati direttamente fino all'ultimo, che le donne in lista non sono una presenza di genere burocratica ma partecipativa e per dire soprattutto che vogliamo continuare ad essere diversi da chi oggi scende in campo con altri candidati cambiando simboli o cambiando faccia o addirittura vestito per proporsi magari sempre con le stesse caratteristiche alla città. Noi abbiamo questo da tempo, manifestiamo un know-how diverso, siamo più diretti, siamo più concreti, siamo più partecipativi, solidarizziamo di più tra noi e soprattutto abbiamo la voglia tutti quanti di rigettare al mittente persone esterne che vogliono rovinare questo ruolo che Massafra si è conquistata nello scacchiere provinciale della politica. Un centro-destra dunque compatto? Ma credo proprio di sì, compatto sì e nella ricerca quasi spasmodica in termini di impegno di trovare gli addenti giusti per dare poi un'equazione giusta finale alla città. Sindaco, quale appello rivolge ai suoi alleati? Di continuare ad avere umiltà e di continuare a stare insieme. Il programma del centro-destra propone una certa continuità o riproposta aggiuntiva a progetti già esauriti nel corso di questi dieci anni? Di continuità non direi perché noi abbiamo esaurito un programma, di riproposta aggiuntiva a tante cose che sono state fatte, altre idee, ce ne abbiamo tante, altri completamenti di progetti avviati in termini di finanziamento, vedersi per esempio Sant'Agostino, il secondo lotto di Via Ferrara, ci sono tante cose ancora da completare che abbiamo messo in campo, come pure tante in questi giorni stiamo completando e consegnando alla città come il centro diurno più bello della provincia di Taranto che domani sera inauguriamo. Ci sono tante cose da dire in questa campagna elettorale e soprattutto da continuare a fare qualora la città come credo ci darà di nuovo fiducia. Nel tavolo si è anche discusso del tema ambientale, in questi tempi molto caro ai nostri concittadini. Su questo credo che le idee si accomunano un po' tutti. Naturalmente con un approccio di sobrietà, con sobrietà diverso, c'è chi lo strumentalizza il momento e chi lo vuole condividere come me. Quindi sono due posizioni, dico, non contrastanti ma persino chiamerei di sostanze diverse anche se l'intento poi è unico e quindi i cittadini possono stare tranquilli che noi non vogliamo né inquinare né differenziarci da chi dice che vuole vivere in maniera migliore in questo paese. In questo paese si vive in maniera migliore rispetto alle altri comuni e alle altri territori e soprattutto si è prodotti in maniera migliore. Di questo è sempre una stelletta di vanto alla mia amministrazione decennale che ha governato questa città. E per concludere, Sindaco, questa campagna elettorale le destra qualche particolare preoccupazione? Ma di che? Io non sono preoccupato, sto mettendo ancora di più l'anima perché si giunga un risultato migliore. Sono preoccupato perché vogliono strumentalizzare la campagna elettorale, sono preoccupato perché mezze figure magari che vivono in case abusive al cisciglio della gravina vogliono un ambiente migliore. Sono preoccupato se queste attecchiscono queste cose, sono preoccupato che tanti pseudo, diciamo, professionisti che appartengono anche a associazioni importanti magari costruiscono abusivamente la propria casa. Ci sono tante cose di cui mi devo preoccupare e che invece di preoccuparmi devo comunicare forse, e questo è venuto fuori dall'incontro, alla città. Devo farli venire fuori perché forse questo silenzio li ha fatti campare di politica. Quindi credo che è opportuno che è arrivato il momento di comunicarlo e di differenziarci alla città, non nell'approccio, non nella proposta, ma proprio in una morale diversa che ci è sempre appartenuto.